Buongiorno 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 Non lo so, sono scontrati Scontrati sono scontrati Ma evidentemente è caduto male Chi ha le mani in faccia? Ho perso i secondi importantissimi Dio mio Dio mio signora aiutaci Non si muove Non si muove L'ambulanza sta chiamando L'ambulanza L'ambulanza Buongiorno 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 Una roba che non crede. 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 Una roba che non crede.